L'area di disegno di QCAD è definita attraverso un sistema cartesiano e ad ogni punto corrisponde una coppia di coordinate XY. E' così possibile definire e disegnare entità in maniera molto precisa. Proviamo a disegnare una linea, digitiamo LI e con la barra spaziatrice attiviamo la command line. Alla richiesta per un primo punto, indichiamo 0,0. Abbiamo così impostato quale primo punto l'origine del sistema, indicata con una piccola croce rossa. Per dare coordinate per il prossimo punto, possiamo continuare a digitare ad esempio 10,0. Per risalire in verticale dovremo a questo punto utilizzare una coppia di coordinate che abbia la stessa coordinata X, quindi 10, punto e virgola, e qui mettiamo il valore che vogliamo superare in direzione verticale, per esempio 5. Se vogliamo richiudere la geometria che stiamo disegnando, potremo digitare 0,0. Col tasto destro del mouse concludo quest'operazione. In questo modo, tuttavia, quello che utilizziamo è un sistema assoluto, in cui bisogna conoscere la posizione, la coppia di coordinate relative ad ogni punto nello spazio del disegno. È una condizione abbastanza difficile, ed è per questo che è possibile lavorare attraverso un sistema di riferimento non assoluto, ma relativo, ovvero relativo all'ultimo punto inserito. Proviamo a disegnare una nuova linea facendo un clic in un punto qualsiasi dello schermo. A questo punto, per tracciare una linea orizzontale, dovremo indicare al programma che il nuovo inserimento sarà relativo, e per farlo utilizzeremo un simbolo convenzionale, che è la chiocciola, quindi scriveremo chiocciola 10,0, per spostarsi di 10 unità lungo le x rispetto all'ultimo punto immesso. Diamo l'invio e proseguiamo. Se vogliamo proseguire in verticale, adesso digiteremo chiocciola, 0, perché non dobbiamo spostarci lungo la direzione x, punte virgola 10, per spostarsi appunto in verticale di 10 unità. La chiocciola è quindi un simbolo convenzionale, che serve a impostare temporaneamente quale nuova origine, quale nuovo punto 0,0, l'ultimo punto utilizzato. Il sistema di immissione utilizzato finora è un sistema cartesiano, sia esso assoluto o relativo, ovvero definito attraverso una coppia di coordinate, separate da un punto e virgola. E' utile sapere che il simbolo che separa le coordinate è modificabile, ed è forse più comodo impostare anziché il punto e virgola la virgola quale separatore. Per farlo dovremo modificare le preferenze del sistema, e quindi andare sotto il menu Edit Application Preferences, e dalla sezione General, modificare il formato delle coordinate, in particolare il separatore delle coordinate cartesiane. A questo punto, per tracciare una nuova linea, sarà possibile utilizzare la virgola, ad esempio digitando chiocciola 10,0. Oltre al sistema cartesiano, esiste tuttavia un altro sistema di riferimento, ovvero quello polare, che definisce un punto attraverso l'indicazione della distanza dal sistema di riferimento e dell'angolo utilizzato. Proviamo, ad esempio, a disegnare una nuova linea, che parta sempre dall'origine, scrivendo 0,0. Se vogliamo disegnare una linea a 45 gradi, dovremo indicare 10, che è la distanza che vogliamo coprire, minore di 45, il simbolo minore, anche in questo caso, è una convenzione, che serve ad indicare che il dato immesso, fa riferimento a un sistema polare. Diamo invio. Abbiamo così disegnato una linea di dimensione 10, a 45 gradi. Il riferimento è sempre l'origine, per cui, per esempio, indicando adesso quale prossimo punto, 10, minore di 90, 90 gradi, posizioneremo il punto successivo, alla distanza di 10 unità, a 90 gradi, rispetto all'origine del sistema. Anche in questo caso, è possibile, tuttavia, utilizzare la chiocciola, quale sistema relativo. Per cui, potremmo cominciare una nuova linea in un punto, qualsiasi dell'area di disegno, e digitare chiocciola 10, minore di 45, per indicare una linea 45 di 10 unità di lunghezza. E se vogliamo, per esempio, andare in verticale dal punto, dall'ultimo punto tracciato, di 5 unità, digitaremo chiocciola, 5, minore di 90. Facciamo qualche altro esempio, continuando il disegno della linea. Chiocciola, chiocciola, 10, minore di 180, ad esempio, porterà la linea verso sinistra, di 10 unità. Mentre, chiocciola, 5, minore di meno 90, traccerà un nuovo punto, la distanza di 5 unità, scendendo lungo la direzione verticale. E' utile sapere che il programma visualizza il punto di riferimento relativo attraverso questo simbolo, questo piccolo croccino rosso, che viene spostato nell'ultimo punto tracciato. In questo modo è sempre possibile sapere qual è il sistema di riferimento relativo utilizzato. Ad esempio, se adesso volessi tracciare una nuova linea a partire dall'ultimo punto tracciato, ma ad una distanza definita, potrei farlo digitando chiocciola, e in questo modo riporto a questo punto il sistema di riferimento temporaneo, e poi digiterò, ad esempio, 10, che è la distanza da cui voglio partire, minore di 180, perché voglio partire alla sinistra del punto. Come vediamo, ogni volta che tracciamo un punto, questo croccino viene riposizionato nel punto appena tracciato. E' utile sapere che è possibile anche spostarlo in una diversa posizione. E per farlo, possiamo trovare il comando nella CAD Toolbar, il comando che si chiama SetRelative0. Possiamo così, per esempio, impostare il sistema di riferimento relativo in una nuova posizione, e poter, a questo punto, proseguire il disegno avendo quello quale riferimento. Per esempio, digitando chiocciola 0,0, andrò a posizionarmi esattamente in quel punto. Al sistema di riferimento relativo, sono associati alcuni strumenti che vincolano il movimento del cursore, e quindi l'immissione di punti, secondo delle direzioni. Ad esempio, è possibile attraverso il comando Restrict Orthogonally, limitare, alle due direzioni principali, orizzontale e verticale, l'immissione dei punti. E' possibile anche vincolare unicamente secondo una direzione, quale quella verticale, ad esempio. O ancora, impostare un angolo o una lunghezza. In questo modo, attivando l'angolo, sarà possibile disegnare un nuovo punto utilizzando unicamente una direzione multipla dell'angolo immesso. Sarà inoltre possibile impostare una distanza, vincolando così la nuova posizione indicata ad un multiplo della distanza inserita. Inoltre, la condizione di default del programma prevede l'utilizzo di alcuni snap, ovvero dei sistemi di calamita, che consentono di posizionare il cursore in riferimento a dei punti notevoli del disegno, quali le intersezioni, i punti terminali, i punti mediani delle linee, i centri dei cerchi e così via. In più, il movimento del cursore sarà anche vincolato alla presenza di una griglia, che vediamo come sfondo della nostra area di disegno. Queste impostazioni, questi snap, sono di default appunto già attivi ed è possibile decidere quali utilizzare o modificare queste impostazioni dalle preferenze del programma, sotto Edit, Application Preferences. Qui dovremo andare nella sezione Snap, Autosnap per impostare gli snap che vogliamo che siano automaticamente attivi. Grazie a tutti. Gli snap definiti nelle impostazioni del programma sono appunto definiti Autosnap e sono sempre attivi. Nel caso in cui invece volessimo utilizzare uno specifico snap e non gli altri, possiamo, nel momento in cui dobbiamo emettere un nuovo punto, decidere quale utilizzare in funzione di quelli presenti nella CAD Toolbar. Ad esempio, possiamo decidere di utilizzare uno snap perpendicolare. In questo modo, il nuovo punto risulterà perpendicolare alla linea a cui facciamo riferimento. E' poi possibile sempre ripristinare la condizione Autosnap, ovvero il ripristino delle condizioni di default di snap, oppure disattivare gli snap temporaneamente utilizzando l'icona corrispondente. Per concludere, è utile sapere che l'inserimento di un nuovo punto attraverso un sistema relativo può essere fatta anche sfruttando la posizione del puntatore e quindi del mouse. Sarà infatti possibile definire la direzione unicamente attraverso appunto la posizione del puntatore e indicare numericamente la command line la distanza che si vuole coprire. In questo modo, sarà possibile tracciare facilmente e velocemente i nuovi punti sfruttando gli snap e i vincoli che abbiamo visto.